Il tema della formazione, in modo particolare dei mestieri dell'artigianato, per noi è uno dei pilastri fondamentali, il nostro primo punto all'ordine del giorno della nostra agenda politica, proprio per far conoscere quella che è una grandissima opportunità che i nostri ragazzi hanno con i nostri percorsi di formazione per andare a riscoprire, ad imparare quei mestieri che nessuno potrà portarci via. E quindi oggi una giornata importantissima dedicata al tema della formazione, alla collaborazione con il mondo dell'impresa, al mondo dell'artigianato, che è una sinergia fondamentale per raggiungere questo obiettivo, portare questo messaggio ai nostri giovani, ma parallelamente anche alle loro famiglie, proprio per far capire l'importanza dei nostri mestieri, il valore dell'artigianato e non solo. Quindi grazie davvero all'Unione Artigiani per l'invito.